La grande voce e la grande simpatia di Giorgia torna a Sanremo 2023 ed ora sappiamo finalmente qual è il titolo del singolo che porterà al prossimo festival Il titolo è Parole dette male Bentornati a tutti gli iscritti al nostro canale YouTube Benvenuti a tutti coloro che sono di passaggio Vi invito a fermarvi a guardare anche altri video Cosa stiamo facendo? Un approfondimento Dopo avervi raccontato in diretta a Pugini On Air la finale di Sanremo Giovani Dove i big hanno rivelato i titoli delle canzoni che porteranno al festival Abbiamo detto facciamo un bel approfondimento su ogni big e così Insieme ci ricordiamo perché tutti siamo entusiasti per l'arrivo del festival Ed è bello iniziare a parlarne e ci ricordiamo chi sono questi big Facciamo un approfondimento per ogni big Quindi trovate ogni singolo contenuto Naturalmente per facilitare anche l'ascolto sul nostro canale Andate a vedere anche gli altri video Allora, ora parliamo di Giorgia Abbiamo detto parole dette male è il brano che vede il ritorno al festival della cantante Che è stata ribattezzata da molti come The Voice E sono passati 22 anni dall'ultima partecipazione in gara di Giorgia al festival di Sanremo Era il 2001 e si classificava seconda con Di Sole e D'Azzurro Che vedeva tra gli autori il grande zucchero Quella del 2023 sarà per la cantante la quinta partecipazione Allora, quali sono le precedenti? Nel 1994 con E poi Una canzone famosissima che tutti avremmo ascoltato Almeno quando eravamo più piccoli se non altro Tra le nuove proposte Come ho detto E poi Classificata al settimo posto tra le nuove proposte nel 94 Poi nel 95 Prima tra i campioni Con Come saprei Nel 1996 Strano il mio destino Questo è il titolo del singolo che la portò al terzo posto tra i campioni E nel 2001 al secondo posto tra i big con Di Sole e D'Azzurro Beh, tutte le canzoni che già il titolo ci ricorda Un po' la melodia, il ritornello, qualche parola, la voce di Giorgia Sicuramente anche se non le sappiamo a memoria non siamo dei fan accaniti Perché sono entrate nella memoria collettiva di tutti noi Giorgia che nelle scorse settimane ha pubblicato il singolo Ricorderete, Normale Così si intitolava Annunciato il suo dodicesimo album Intitolato Blu Quindi c'è anche la data d'uscita ed è il 13 gennaio 2023 È una scelta molto particolare perché In genere molti dei big che partecipano a Sanremo pubblicano l'album dopo il festival Invece lei esce proprio praticamente una quindicina di giorni prima Un po' di più Una venticinquina di giorni Diciamo meno di un mese Il 13 gennaio 2023 Uscirà Blu Il suo nuovo dodicesimo album Ora le possibilità sono due O slitta la pubblicazione del disco Perché questo potrebbe succedere Infatti vi dicevo è un po' strano Come fece anche Elodie nel 2020 Il disco Il disco Magari uscirà solo in digitale nella data annunciata Per poi arricchirsi con il brano in gara al festival E arrivare anche in formato fisico Vediamo cosa succederà Noi saremo qui per aggiornarvi Ci aggiorneremo insieme Sul festival di Sanremo tutti big Georgia La grande Georgia Per cui non mancate Ci ritroviamo qui Restate sintonizzati A Puggini On Air On Air On Air On Air On Air